La strana coppia è cool, è rico e guagli è cool, sa che ora ora è più cool La strana coppia Mr. Patrick Salati, eccolo qua Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Ciao Patrick! Buongiorno! Buongiorno ragazzi! Buongiorno, buongiorno, buongiorno Allora senti allora intanto ci sono dei saluti da fare per Vanessa che è una regbista della squadra femminile E IGLANDERS VALCHIRIALS FORMISION E poi a proposito di saluti sportivi c'è arrivata una nota audio Stamattina dedichiamo agli sportivi la performance di Patrick Una nota audio da Brescia, sentiamo Un grande saluto a Sandro Enrico, la strana coppia di Radio Bruno Un bacione, buon lavoro ragazzi Da Valeria Sprumonte, campione olimpico di Londra 2012 Grande Valerio! Anche il campione olimpico ci ha salutato Patrick, Patrick Dimmi tutto caro Senti ma ieri non era il compleanno di una persona molto importante, una persona che sa cantare più di te? Esatto, esatto, infatti guarda la mia dedica stamani rivolta a lei Era il compleanno di Nadia che è mia figlia E indubbiamente canta meglio del papà Vabbè oh, vabbè Perché si fa poca fatica Voglio dedicare questa bellissima canzone Che con tutto l'amore che posso di Claudio Baglioni La dedico giustamente a Nadia e anche al nostro santo padre che ieri ci ha fatto visita Sì, bravo, bravo Nelle nostre terre, tra carti, mirandole queste parti Vai Patrick Vai, attenzione amici Alzate il volume della radio se volete rompere i vetri a casa vostra Vai Ecco, infatti l'orchestra Sono ancora che questo Per davvero Amore mio Ma che cos'hai tu di diverso Dalla gente Di fronte a te che sei per me Così importante Tutto l'amore che io posso È proprio niente E dopo aver riempito il cielo di parole Compramo il pane appena cotto E nacque il sole E ci sorprese Adormentati Sulle scale Mani Nella mano Non ce l'aspettavamo il finale così Patrick E per ogni tanto bisogna inventarti qualcosa È bellissimo È bellissimo Allora Patrick Allora Allora Attenzione Mi pare che oltre a rompere i vetri Stai rompendo anche qualcos'altro Ma non è così Non è così Non è così Patrick Ciao Patrick È lunedì prossimo Alla prossima Nostra la coppia Nostra la coppia Nostra la coppia Nostra la coppia Sonia Non è così Grazie.